Facciamo un break dall'emergenza sanitaria per occuparci della notizia che ha colpito un po' tutto l'Abruzzo, in particolare la città di Lanciano. All'età di 69 anni è morto Danilo Marfisi, lo storico presidente del Mastro Giurato, la rievocazione storica trasmessa tante volte da Reteotto. Marfisi, che negli ultimi mesi aveva problemi di salute, si è spento nella sua abitazione. Lascia la moglie Massimina e due figli, Daniela e Claudia, presidente della storica associazione lancianese dal 1999 fino ad oggi, ha presieduto la Confederazione Europea dei Giochi Storici nel 2014. Sul profilo social della storica associazione di Lanciano si legge, la notizia che mai avremmo voluto dare, con la tristezza che ci lacera il cuore, annunciamo la morte del nostro presidente Danilo Marfisi. L'anima, la linfa vitale del Mastro Giurato ci ha lasciato poche ore fa e noi ci sentiamo orfani di una guida paterna, un amico, un fratello, un grande uomo. Ciao Danilo, senza di te nulla sarà più come prima.